Siamo consapevoli di vivere in una zona sismicita elevata e questo deve essere uno stimolo a curare la sicurezza degli edifici. Lo ha affermato il sismologo Fabrizio Galadini, direttore dell'INGV per la provincia dell'Aquila, intervenuto a Castelvecchio Subequo ad un incontro sul tema convivere con la sismicità dell'Appennino centrale. Dobbiamo capire che è inutile oggi spaventarsi del fatto che c'è una sequenza sismica in corso, cioè è umano ovviamente, ma poco utile dal punto di vista pratico. Siamo in una zona derivatissima pericolosità sismica, l'unica via che abbiamo per convivere con questa realtà è quella di abituarci all'idea di avere case e abitazioni realizzate come deve essere in sicurezza sismica a diminuire la vulnerabilità degli edifici dove abitiamo o dove lavoriamo. Questa è l'unica strada per convivere, ecco il senso della convivenza con questa sismicità. Il sismologo ha riportato il buon esempio di Norcia che, avendo beneficiato della ricostruzione avvenuta dopo i terremoti del 1979 e del 1997, presenta una vulnerabilità minore rispetto ad Amatrice. Dove però la ricostruzione non è stata ancora completata, va mantenuta alta la guardia se non esistono edifici a norma. Galadini si è voluto rendere conto di persona della situazione di Castelvecchio-Subequo, dove in seguito alle scosse dello scorso 18 gennaio si sono verificati ulteriori crolli nella zona rossa che hanno costretto all'interruzione dei lavori di ricostruzione e non si sa ancora quando riprenderanno. Nel frattempo l'amministrazione comunale guarda con attenzione all'incolumità degli studenti. Il sindaco Pietro Salutari ha annunciato un progetto per la costruzione di un nuovo edificio scolastico. Quello esistente ha spiegato, pur se stato dichiarato agibile, avrebbe bisogno di un adeguamento sismico. Il consigliere comunale Berardino Musti, auspicandosi che l'incontro con Galadini non rimanga solo un ricordo, ma possa produrre atti concreti, ha proposto al Comune di farsi carico dell'istituzione di un osservatorio geologico del comprensorio. La struttura si renderebbe utile nel caso di nuovi eventi sismici lungo la faglia della Valle Subequana che è stata già oggetto di studio da parte dei geologi dell'INGV in una conferenza sui terremoti nel giugno 2009 alla presenza proprio di Fabrizio Galadini. La Terra continua intanto a generare fenomeni che creano preoccupazione e il caso dei misteriosi boati avvertiti dalla popolazione di Raiano nel gennaio scorso. Stando ai rilevamenti dell'INGV che hanno escluso eventi sismici, si è trattato probabilmente di fenomeni franosi nel sottosuolo. Ah 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 Grazie a tutti